Muoversi. Infomobilità in Campania. Fino alle ore 18 di oggi e attiva la riduzione di carreggiata nel tratto compreso tra le uscite San Leonardo e zona industriale in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 163 Amalfitana fino al primo giugno per lavori è attivo il senso unico alternato tra le località minori e maiori. In chiusura vi informiamo che fino a domenica 30 aprile per consentire interventi di manutenzione al binario della Galleria Mostra è sospesa la circolazione dei treni della linea cumana tra le stazioni fuori grotta e bagnoli a copertura della tratta e attivo un servizio sostitutivo su gomma. Per questi ed altri dettagli potete consultare il nostro sito all'indirizzo www.muoversi.regione.campania.it Dalla redazione Muoversi, Nunzia Canfora